Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. La preparazione fisica del giocatore di bocce, come dovrebbe essere impostata? La preparazione fisica è importante in tutti i sport ed è importante anche nel gioco delle bocce. Fare attività all'aperto oppure fare dell'attività al chiuso, che può essere il moto, può essere la palestra, è importante e determinante. Se uno non riesce a concepire questa preparazione, un'altra cosa importante è quella del ricupero. Il ricupero avviene solamente sottoponendosi a delle sedute di massaggio, il giocatore di bocce è impegnato nel stare tante ore in piedi, quindi a usare molto i muscoli a livello isometrico e quindi il consiglio che do, non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma perché tutti quelli che si sottopongono a sedute di massaggio poi ne trovano sempre in giovamento. Nello studio di Rivoli avete il servizio di pedicure? Sì, abbiamo un servizio di pedicure curativo e diciamo che durante questi anni molti giocatori di bocce ne hanno fatto uso perché problemi di unghie e problemi di calli sono molto ricorrenti. Ci avvaliamo anche la collaborazione di medici specifici, specialisti proprio per il trattamento delle unghie. Grazie a tutti.